L'Abruzzo potrebbe risultare determinante con i suoi sette parlamentari eletti nell'uninominale, tra Camera e Senato, nel consegnare la vittoria elettorale del prossimo 4 marzo. Ecco perché la nostra regione sta diventando il crocevia dei leader nazionali, a caccia di quel voto in più che potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla propria parte. Ieri Pietro Grasso, leader di Libere e Uguali, è arrivato a Pescara per ribadire che l'unica sinistra in gioco è quella della coalizione da lui guidata. Grasso ha poi proseguito per Roseto e l'Aquila per presentare i candidati di Leo sul territorio. Supercinema gremito a Chieti ieri sera per il centrodestra e Forza Italia, dove il partito di Silvio Berlusconi è riuscito a pareggiare, come affollamento, l'intervento della settimana scorsa di Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle. L'ordine di Berlusconi è quello di battere a tappeto il territorio e di combattere voto su voto per strappare il seggio decisivo. A livello nazionale la contesa per la supremazia in coalizione, questo è chiaro, e con la Lega di Salvini, che con uno dei candidati in Abruzzo, Alberto Bagnai, ricorda la priorità del programma leghista, la crescita economica, che dice sempre Bagnai, non può essere soffocata dal rispetto delle regole imposte dall'Europa. Un approccio più razionale consisterebbe nel pensare di stabilizzare il debito anziché abbatterlo nelle condizioni di emergenza in cui siamo, liberando risorse per finanziare quei piccoli investimenti, quegli investimenti in piccole opere di cui il territorio italiano ha bisogno e ne ha in particolare bisogno il territorio abruzzese, che è caratterizzato da una situazione di grande fragilità del territorio e dove ci sono ampi margini per migliorare grandemente la qualità della vita della popolazione. All'estrema sinistra potere al popolo mette al centro del suo programma il lavoro e la lotta alla precarietà dei contratti. Siamo la vera sinistra, dice il segretario nazionale Maurizio Cerbo, una vera alternativa a due partiti di centrosinistra, PD e Liberi e Uguali. C'è bisogno di investimenti per l'occupazione, c'è bisogno di un reddito per i disoccupati, c'è bisogno di istruzione, siamo il paese con il minor numero di laureati, quindi garantire il diritto allo studio. C'è bisogno di un piano di investimenti serio per far ripartire l'economia reale e non per continuare a arricchire i soliti noti, però questo è possibile soltanto se il popolo si fa sentire. Intanto anche la lista valore umano si presenta agli elettori abruzzesi a caccia dei voti utili a superare la soglia di sbarramento. Quello che vorremmo fare per l'Italia è sicuramente la semplificazione, abbattimento della burocrazia e abbattimento delle regioni che sono centri di spesa, questo è uno dei nostri programmi sicuramente, fa parte del nostro programma. Tutto quello che comunque è scritto nel nostro programma noi pensiamo di finanziarlo con una moneta complementare, la diffusione nazionale che sia parallela all'euro. Siamo nati a novembre, quindi abbiamo un'associazione che ci sostiene e contiamo sui loro voti. Certo, speriamo di avere anche voti dai cittadini normali che non ci conoscono, che ci stanno conoscendo adesso.